in laboratorio ha perso una bambola sbarazzati del vecchio trucco disegna dei grandi occhi neri con riflessi enfatizza naso e bocca alla bambina serve un taglio di capelli che tipo di capelli scegliamo ecco questi sono perfetti mescola i glitter con lo smalto acrilico che capelli luccicanti wow che belli un pezzo di cerotto sulla fronte ritaglia i vestiti fai una maglia aggiungi le croci mettile dei leggings a righe la nostra bambina è pronta andiamo a trovarla cosa ti piacerebbe fare che bella giornata sono piena di energia ha rovesciato la colla e si è subito nascosto cos'è ah penso di avere un bernoccolo andiamo all'ospedale dottoressa sono caduta e mi sono fatta male siediti prego ti visito guarirà rapidamente con questo cerotto grazie dottoressa è così buio disegna occhi e sopracciglia fai le guance rosse sorridi un'aria dei lunghi capelli neri con la frangetta e le orecchie i capelli brillano di glitter tagliamo questi pantaloni un paio di ritagli si sono trasformati in pantaloni fai dei ritagli maniche e una tasca prepara una felpa trendy il tocco finale alla cerniera dobbiamo scegliere le scarpe grazie lalilu chi c'è là che carino che imbarazzo attenzione dobbiamo fare più attenzione torna a casa ciao tesoro con chi sta parlando non c'è nessuno ritaglia la sagoma di uno skateboard al cartone pressato carteggia i lati piega leggermente i bordi metti insieme i dettagli questo skate è perfetto per rita taglia gli stuzzicadenti incollali a dei supporti e argentati le perline di legno sono diventate blu vai a fare skate wow è affollato oggi fantastico devo impressionare tutti con i miei trucchi oh no i miei capelli il mio vestito il mio trucco ragazze scusate assemblo il binocolo giocattolo con i lego colora di nero aggiungiamo delle lenti potenti con un binocolo come questo puoi vedere anche gli oggetti più lontani nai ha molti hobby uno di questi è osservare la vita degli altri ma è timida dove sta andando interessante un cagnolino ha fatto la cacca proprio sul prato ho visto tutto nessuno lo sa ma raccolgo i rifiuti arcobaleno in dei barattoli speciali aggiungiamolo alla raccolta delle cose strane l'argilla tornerà utile crea un telefono minuscolo taglia un paio di orecchie aggiungi un display aggiungi della plastica trasparente e dei piccoli pulsanti che modello carino rita sarà felicissima chiamo la mia amica moni è di nuovo in ritardo moni sei qui sapevo che c'era un filo ma dov'è il mio telefono? probabilmente è caduto quando ho saltato l'ha trovato moni guarda prendi un pezzo di argilla polimerica fai un incavo forma una piccola ciotola l'animale domestico avrà un pasto abbondante nari è andata alla discarica dei gatti dal suo animale domestico immaginario ehi crocchette ti ho portato del pesce in scatola questo pesce ti attirerà sicuramente ok proviamo le crocchette nessuno può rifiutare queste prelibatezze andiamo a fare una passeggiata prepara i pompon la gomma piuma colorata si divide in piccoli dettagli crea un musetto e un sorriso i soffici pompon sono ovunque crocchette è davvero super dolce lari e il suo animale domestico adorano passeggiare per bob city ragazze guardate com'è bello il mio crocchette ah ok che tipo strana probabilmente ha preso un colpo di sole ma nari non importa pasta polimerica vieni con noi modella un corpo minuscolo braccia e gambe aggiungi una testa grande a forma di uovo metti in forno già fatto il piccolo crumpet è scappato cattura il burlone dipingi il corpo di bianco e fai un cappuccio giallo sembra un ananas che bel musetto in alto c'è un ciuffo verde aggiungi gli occhiali il piccolo crumpet rende felice rita una ragazza è andata a trovare la sua amica alla discarica di bob city ehi ho raccolto un sacco di cose in giro per casa sì facciamo un crumpet portami una scatola per favore questa può andare ci metto le cuffie e io il portafoglio non ha funzionato aggiungiamo la fotocamera va bene allora io metto il binocolo wow ha funzionato il piccolo crumpet è saltato fuori questo piccoletto non riesce a stare fermo sì congratulazioni per il nuovo crumpet tagliamo il tessuto blu cuci una federa decora con delle banane riempi con della soffice imbottitura aggiungi una coperta da abbinare il letto super carino ti regalerà i sogni più dolci rita ama dormire a lungo alzati amica andiamo è troppo presto universo dimmi come posso svegliare la mia amica lo so ha dovuto trascinare Sonia a fare una passeggiata insieme al letto crea una scatola di carta colorata delle mini confezioni di gomme da masticare in ogni confezione c'è una deliziosa gomma Nari adora le gomme ci sono sempre diversi pacchetti nella sua tasca mastica sempre sfida accettata il mio ultimo record è stato di 27 giorni ovunque vada la ragazza non si separa mai dalla gomma da masticare sia a casa che per strada la si sente masticare ovunque come fa a non annoiarsi? va bene ok la lascio sul tavolo ma domani continuerò ti nuovo ti nuovo Grazie a tutti.